il condominio ve lo dico io dice lo scoiattolo è mezza cava anzi è cava del tutto non può stare in piedi è vero è vero poverina approvano i bombi lo sapete quanti anni ha 200 300 forse mille è la pianta più vecchia del bosco cadrà prima o poi tutti guardano con grande malinconia la grande e rugosa quercia che ormai non ha più foglie e non dà più ghiande poi in una tremenda notte di bufera si sente un forte scricchiolio e un gran tonfo il giorno dopo con il sole non ancora alto nel cielo eccoli tutti nella radura attorno alla grande quercia sradicata come erano buone le sue ghiande sospira il riccio o era così bello giocare a nascondino tra le sue foglie e i suoi rami dice il passerotto peccato che non serva più a nulla concludono le sorelle topine ma il castoro inforcati gli occhiali e grattandosi il mento dice chi ha detto che non serve più a nulla lasciatemi prendere un po di misure tira fuori carta metro compasso e matita si mette a girare con la fronte corrugata attorno al tronco e alla fine esclama togliendo un po di legno qui alzando una parete la prendo qualche finestra e qualche porta ne verrebbe fuori una tana meravigliosa una tana ma che dico molto di più verrebbe fuori un condominio dopo un attimo di silenzio generale la tartaruga mormora già ma chi può fare tutto questo lavoro semplice i picchi l'accordo infatti viene presto concluso in cambio di un sacchetto di ghiande i picchi prendono a colpire il legno con i loro becchi robusti seguendo le indicazioni del castoro ed ecco apparire una finestra qui e una porta là nel frattempo il riccio la talpa e il tasso tirano su pareti e soffitti anche il ghiro aveva promesso di dare una mano ma poi sul più bello si è messo in un angolo a schiacciare un pisolino ma i lavori vanno avanti e qualche giorno dopo il grande tronco della vecchia quercia è diventato un condominio con ben cinque appartamenti le sorelle topine lo stanno già spazzando pulendo spolverando alla perfezione e arredando infine con tende e tendine che splendore c'è anche un terrazzino dove stendere i panni infine il trasloco al numero uno va ad abitare il topo ragno al 2 il rizzo con suo fratello al 3 il topo nero che per prima cosa porta una vecchia pendola ereditata dal nonno al 4 il criceto al 5 dovrebbe andare la talpa ma ma io non so se starò bene lì dentro dice come non ti piace le chiede il castoro non è questo sai il mio hobby è scavare gallerie di notte mi sveglio e comincio a scavare e ogni tanto metto la testa fuori per vedere dove sono arrivata come potrei scavare gallerie nel condominio rischierei di mettere la testa nella stanza del topo nero o no questo non può accadere dice il castoro andrei ad abitare in cantina sotto terra e potrei scavare tutte le gallerie che vorrai questa sì che è un'idea esclama la talpa e si mette subito al lavoro prima di sera eccola lì stanca e felice nella sua nuova tana gli abitanti del condominio sbirciano dalla finestra e mormorano per fortuna dorme in cantina sentite come russa ci avrebbe tenuto i svegli tutti quanti così anche caduta senza foglie e senza ghiande la vecchia quercia continua a far parte del bosco da parte del bosco Grazie.